A Dornavasso c'è un caso di febbre d'enge, come ha spiegato il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, appena rieletto. Avrei voluto scrivere un post sulle elezioni appena concluse ma una nuova criticità alla precedenza. Incaricati della regione Piemonte ci hanno comunicato un caso di febbre d'enge nel nostro comune. È una malattia virale che un nostro concittadino ha preso all'estero e che tramite le zanzare tigre è trasmissibile. Per tale ragione... Nuova Swift Hybrid, tutto di serie e senza sorpresa.